Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. In questo video andrò a fare uno scherzo a mia sorella e praticamente le andrò a mettere della cacca finta sul suo letto dove lei dorme. Ci vediamo allo scherzo. Ragazzi, ora che ho la cacca finta, allora per prima cosa prendete un recipiente, riempitelo d'acqua e serve questo cartoncino della cartigenica. Staccate, tagliate dei pezzi di questa grandezza, questi uguali, e immergeteli in acqua. Allora, dopo che l'avete immersi nell'acqua, dovete unirli i pezzi e vi uscirà tipo una cosa del genere. Poi lasciate asciugarlo, diciamo, un 30 minuti al sole e poi andremo a colorarlo. Ok ragazzi, ho finito di colorarla, ora andremo solo a fare lo scherzo. Allora ragazzi, mia sorella sta dormendo, il gatto sta qui. E ora le andrò a mettere la cacca sulla gamba, piano. Ok, ora andrò a nascondere la telecamera, ci vediamo dopo. Elena? Elena? Dai, svegliati che ci andiamo a mandare. Ma che cavolo hai là? Che schifo, che schifo? Che schifo? Che schifo? Come ho fatto? Ma ho caduto veramente? Che schifo? Aspetta, che ora la togliamo. Aiuto? Cioè, ma non... Ma devi farla nella lettiera? Ma vediamo, si è tutta sporca qua, vedi? Che schifo? Che schifo? Aspetta. Io, io chiamo mamma. Madò, ma che... Aspetta, però... Aspetta, la togliamo noi, va a prendere i fazzoletti. Tu intanto vedi, l'ancora ha sporcato di più. Che schifo? Che schifo, cattivo che schifo. Tu hai sporcato tutto il letto e mi hai sporcato anche qua. Brutto che schifo. Che schifo. Aspetta, che ora la torno. Che schifo. Mamma! Che molto bene, Elena. Vedi là, nascosta. Vedi, abbassa dire che sta nascosta. La telecamera. Era tutto uno scherzo. E che fu il mio amico a fare lo scherzo. Adesso ti lanca. Vogli vedere cosa c'è sulla gamba? Che schifo. Ragazzi, anche questo video è terminato. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale. E condividete questo video su Facebook. E seguitemi anche nella mia pagina su Instagram. Mi scrive il nome qui sotto. Alla prossima. 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 Alla prossima.